ciao ben tornato sul canale di stats for bets nel video di oggi champions league stasera finisce la serie a mancano ancora le partite del parma dell'empoli e della lazio contro il cagliari ma domani ricomincia subito la champions league poi ci sarà di nuovo la serie a e poi rientra la pausa per le nazionali quindi ancora un set di video molto stretti uno dietro l'altro perché le partite non si stoppano mai insieme a me come sempre i di bracci metodo stats for bets e tipster robot che trovate su amazon e ci andiamo subito 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 a prendere il superfoglio tra l'altro prima di cominciare volevo farvi vedere la guida sulle asia nods che ho ripubblicato sul blog perché ultimamente stava ricevendo tante visite vi ho fatto vedere in qualche video passato come google mi segnala gli articoli che ricevono tante visite e questo ultimamente era uno di quelli molto letti quindi ho pensato di rimetterlo in visualizzazione sul blog andiamo a prenderci la champions allora si comincia con bologna monaco domani sempre domani c'è juventus lille contro juventus real madrid milan mentre mercoledì abbiamo inter arsenal e stoccarda atalanta quindi cominciamo subito dal bologna contro il monaco il bologna champions ragazzi troppo sta facendo cioè già che che sia arrivata in champions è qualcosa di incredibile ha fatto un solo punto perdere a con liverpool e con l'aston villa è qualcosa di totalmente normale anche con il monaco non credo che abbia grandissime speranze lo vedete da soli cioè la partita è molto ingarbugliata ingarbugliata perché comunque le statistiche sono molto equilibrate però secondo me si sposta sul monaco la questione cioè non 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 riesco a dare fiducia ad una squadra che da noi fa la metà classifica in champions contro squadre abituate a stare in champions cioè il monaco magari non è che arriverà in finale di champions però la fa tutti gli anni torniamo sempre al concetto quanto voglio rischiare quanto voglio essere cautelato nella mia scelta e se voglio essere cautelato nella mia scelta e questo non è il match adatto perché abbiamo visto quote molto alte se vogliamo invece cercare un rischio con una statistica non particolarmente evidente si potrebbe cercare il gol cioè dare credito a questo bologna che se non vado errato finora non ha mai segnato in champions che è a zero gol fatti in champions per dargli un po quella e mentre il monaco ha sempre fatto partite con gol e e over e e gol subiti quindi per dare credito a quella eh buona volontà che sta facendo vedere anche con la vittoria su lecce eh dare un piccolo premio tra virgolette al bologna però non è esattamente una eh scommessa che che effettuerei a cuore leggero la metterei nelle schedine magari in cui si cerca un rischio quindi basso budget due tre quattro cinque partite a rischio i classici listoni che con due euro provo a vincere chissà che cifra ecco questa potrebbe essere il resido gol un'indicazione del genere per un raddoppio singola multipla dove comunque voglio andare a prendere quindi quota tre quota quattro considerate che è sempre quello il range eh delle prendibili secondo me fino a quota quattro quota cinque proprio esageratamente si può parlare di schedine medie cautelate se andate oltre quota quelle quote secondo me diventa più caso che studio diversa la questione del della Juventus contro Lille perché il Lille in casa comunque è un fattore sia eh non solo in Champions ma proprio in generale ha battuto anche Real Madrid ma in generale in campionato una squadra molto casalinga eh la Juventus è strana l'abbiamo vista anche in campionato in Champions ha fatto tutto molto bene per poi perdere contro lo Stoccarda quindi è una Juventus altalenante eh secondo me si sposta sulla X2 ma anche qui vediamo dati molto equilibrati e statistiche molto equilibrate 30 praticamente 34 36 cioè tutto molto molto stretto quindi anche qui l'esito non è dei più agevoli da da interpretare addirittura sul gol no gol abbiamo un 50 per cento e la partita si fa prevalere verso l'under quindi le quote sono sull'under le statistiche sono tendono ad essere favorevoli dell'under sapete bene l'ho detto milioni di volte quando ci sono solo due esiti da analizzare quindi under over gol no gol eccetera quindi quando l'esito è binario la statistica favorita parte dal 57 per cento che significa parte che a 55 per esempio ancora troppo equilibrata quindi 57 sta andando verso quel favoritismo lui giustamente secondo me giustamente sceglie il multigol 1 3 perché non mi immagino 1 0 0 quindi ci sta 1 2 gol come cosa per me spostati anche sulla X2 non mi aspetto una partita da da goleata poi abbiamo Real Madrid Milan e il Milan purtroppo è una squadra sempre ancora alla ricerca di se stessa fa bene in campionato poi rifà male poi rifà bene insomma è un po' altalenante il Real Madrid invece soprattutto in Champions e soprattutto dopo aver clamorosamente perso in in casa del Lille credo che debba tornare alla vittoria viene anche da un periodo un po' così perdere 4 a 0 contro il Barcellona in casa c'è tutta la polemica del pallone d'oro cioè diciamo che Real Madrid deve vincerla proprio anche moralmente se così vogliamo definirla moralmente contro il Milan quindi a meno che proprio la squadra di Fonseca non faccia una prestazione maiuscola che comunque ha un suo range statistico perché stiamo a 34 34 non è bassissimo però diciamo rientra negli eventi studiabili quelli sotto al 20 sotto al 18 diventano eventi sporadici non studiabili ecco dire che vince il Milan con solo 13% non è un evento statisticamente rilevante 34 puoi andare a cercare qualche magagna e per esempio la magagna la troviamo qui nei risultati esatti dell'1 a 1 se andate sul blog scendendo neanche troppo c'è questo articolo qui vediamo dove sta eccolo quello della dispersione delle vittorie quando la più forte non vince in questo caso abbiamo una squadra più forte però c'è l'elemento della dispersione c'è l'allibramento anomalo però questo va analizzato il giorno stesso del match perché guardarlo 48 ore prima 24 ore prima non ha molto senso quindi qualche piccolo segnale qualche piccolo elemento per dire potrebbe esserci quest'evento contro statistico c'è però la prevalenza va comunque sull'esito 1 sulla vittoria del Real Madrid passiamo poi al mercoledì Inter contro Arsenal certo fa sorridere perché ieri Inter ha faticato a morte contro il Venezia all'ultimo secondo aveva addirittura pareggiato quindi se ti immagini quell'Inter contro questo Arsenal un po' sarebbe dispotica come cosa però è anche vero che pure l'Arsenal non è che passa dei periodi brillantissimi poi comunque sicuramente c'è stato un atteggiamento diverso sicuramente vedremo un Inter diversa e viene fuori una bella partita tutte e due squadre insomma abbastanza candidate ad andare avanti quindi match tosto da analizzare poi ormai penso l'abbiate imparato a capire anche da tutti questi video no quando qui c'è questa situazione e questo è rosso c'è la partita di significa che è da tripla perché non ci sono elementi questa cosa del semaforo noi l'abbiamo fatta apposta per facilitare appena tu apri e vedi c'hai cinque semafori rossi due gialli il semaforo generale rosso dice ok questa non sarà esattamente la partita più facile del mondo e la sensazione è un po' quella mi immagino una partita senza troppi gol però non non 1 0 0 è interessante che l'under e lo cioè scusate l'under e l'over dei segni diciamo medi 1 e mezzo e 3 e mezzo hanno una forbice non troppo elevata 6 per cento di differenza queste sono le classiche partite che possono finire over 1 e mezzo o under 3 e mezzo e quindi qui si fa la scelta cautelata perché va verso la quota dell'under 3 e mezzo o più rischiosa perché va contro quota dell'over 1 e mezzo secondo me da una partita con queste due squadre con quel potenziale offensivo di entrambe l'over 1 e mezzo è un rischio però ha il suo perché alla sua ha il suo senso e poi stoccar da atalanta questa è interessante perché l'atalanta abbiamo vista stravincere anche sul campo del napoli sul campo del napoli contro uno stoccar da assolutamente altalenante per quello che ci ha fatto vedere finora eh perso con real madrid pareggiato con sparta praga che insomma non è esattamente la squadra più forte del mondo e poi è andata a vincere a torino l'atalanta in champions ancora non esplode come ha fatto in campionato però sta crescendo sta crescendo ed è una partita infatti secondo me c'è la metrica del degli si over quindi è una partita invece questa dispetto delle altre da cui possiamo aspettarci un po di gol e eh spettacolo quindi secondo me qui l'over 2.5 è una connotazione corretta lo vediamo anche dal semaforo ci sono meno segnali di allarme perché eh c'è la c'è il rosso solamente sull'allibramento che è anomalo quindi anche questo andrà valutato il giorno stesso della partita perché oggi è lunedì si gioca mercoledì quindi questo è sicuramente un elemento da controllare però per il resto nonostante entrambe finora abbiano registrato due under e un solo over e entrambe hanno dati non eccezionali però parliamo di solamente tre partite disputate quindi questo lascia il tempo che trova sfruttiamo il momento dell'Atalanta anche in Champions il momento di campionato lo sfruttiamo per analizzare anche la Champions secondo me questo è un elemento che diventa più interessante per scegliere eh l'over come risultato della partita per questo video direi che è tutto se ti è piaciuto lascia un like ci vediamo nel prossimo video